Si intitola il Papa Guerriero Giuliano della Rovere e gli Uomini d'Arme, la mostra inaugurata al Museo della Battaglia di Anghiari, borgo tra i più belli della Toscana che si trova in provincia di Arezzo. Il tema del Papa Guerriero, proprio stato ribattezzato, proprio per far capire le dinamiche della battaglia, che sono anche cruenti, in qualche modo sono state importanti, perché se oggi i nostri confini della Toscana lo dobbiamo a quella battaglia, la celebre battaglia di Anghiari, che in qualche modo ha creato l'identità toscana. Le tre opere in mostra arrivano dalle Gallerie degli Uffizi per il progetto Terre degli Uffizi, un museo diffuso nei comuni toscani che il direttore Schmidt punta sempre di più ad allargare. Un progetto in collaborazione con la Fondazione CR, la mostra sul Papa Guerriero, che sarà aperta fino al 25 settembre, si pone in continuità con il progetto scientifico della prima edizione di Terre degli Uffizi, la civiltà delle armi e le corti del Rinascimento. E sì, una presenza permanente, così come una presenza ripetuta ma regolare, danno lo stesso segnale, ovvero quello di una presenza degli Uffizi sul territorio. E questo ha un grande significato, questo è proprio al cuore della programmazione degli Uffizi diffusi. L'idea è di allargare fino a oltre 100 luoghi sparsi per tutta la Toscana. Questa mostra di quest'anno continua, quella dell'anno scorso, quindi chi è venuto l'anno scorso adesso può continuare a approfondire l'esperienza, quindi c'è anche un nesso logico tra le iniziative.